Musica Commercio è Black Friday, giornata di sconti ma non per tutti, saracinesche abbassate, incertezza per il futuro. A Gropoli mancano medici ed infermieri in turnazione al reparto Covid, scuole ad Auletta, le scuole sono aperte, le mamme tengono i bimbi a casa. Teggiano a breve l'installazione di telecamere per la videosorveglianza. Agenda politica di 1TV con Mario Cirillo e il futuro del Movimento 5 Stelle, sì o no agli accordi, azione entra in azione e di Salerno il nuovo coordinatore regionale. Buonasera e bentrovati con il nostro appuntamento con l'informazione di Uno News, in apertura parliamo di economia, parliamo di commercio. Oggi è il Black Friday che segna anche l'inizio dello shopping natalizio. Anche nel Vallo di Diano negli ultimi anni si era soliti trovare sconti speciali in questo giorno, ma quest'anno la situazione è molto diversa e si contano tante, troppe saracinesche abbassate che certificano la resa del commercio. Il Natale riuscirà anche quest'anno a lasciare l'atteso messaggio di rinascita e speranza? Vediamo. Black Friday è giornata di sconti ma non per tutti. In tempo di emergenza Covid e con le restrizioni imposte dal governo, molte attività commerciali non potranno partecipare al venerdì di sconti. Molte altre hanno già chiuso per sempre e tante ci stanno pensando. Una situazione drammatica che tocca da vicino anche il Vallo di Diano e Sala Consilina, che appena pochi anni fa era considerato il centro del commercio valdianese, mentre oggi deve fare i conti con centinaia di locali chiusi con la scritta fittasi a far bella mostra di sé sulle vetrine impolverate. Un venerdì nero, davvero nero per l'economia del territorio, non per gli sconti, ma per la chiusura degli esercizi commerciali ancora appesi alle decisioni del governo per il prossimo Natale, che indipendentemente dalla riapertura o meno delle attività commerciali, potrebbero comunque condizionare in maniera decisiva gli acquisti, scoraggiando gli utenti che, visti i divieti, potrebbero decidere di rinunciare agli acquisti natalizi e ai regali. Da alcuni anni l'evento commerciale tipicamente americano del Black Friday, che ricade nel quarto venerdì del mese di novembre, primo venerdì successivo al giorno del ringraziamento, negli stessi è anche considerato il giorno d'inizio dello shopping natalizio, che parte con scontistiche particolari per incentivare gli acquisti. Anche in Italia si era diffusa tale consuetudine che quest'anno però si sta trasformando in un venerdì davvero nero per il commercio. Mentre i divieti e le regole imposte dal governo spingono le persone a preferire sempre più gli acquisti online e i colossi dell'e-commerce, l'istinto di sopravvivenza della parte produttiva del paese cerca di fare di necessità virtù e si attrezza creando dei canali di vendita online per riuscire a superare la crisi dovuta all'emergenza Covid. Per molte altre attività però ciò non è ipotizzabile perché impossibilitate a vendere i loro prodotti tramite internet o perché sono troppo onerose le spese da sostenere per la vendita online e la successiva consegna. Difficoltà che incontrano soprattutto le attività commerciali di cui è composto il tessuto economico dei piccoli centri delle aree interne, che distrutti da un anno senza guadagni e con troppe spese si arrendono e abbassano le saracinesche per sempre. A Sala Consina sono circa 200, forse anche più, i locali chiusi e lasciati alla polvere in attesa di nuovi affittuari sempre più difficili da trovare. Un discorso che non è riferibile solo all'emergenza Covid ma che sicuramente i blocchi e le chiusure imposte in quest'anno di emergenza epidemiologica ha aggravato. Vetrine prima colorate, oggi grigie e impolverate, sembrano ben rappresentare il clima di incertezza e di resa che si sta vivendo mentre si sta avvicinando un Natale che ancora oggi non si sa se sarà capace di lasciare anche quest'anno quel messaggio di speranza e rinascita a cui sempre ci si è affidati. La sanità, andiamo ad Agropoli, carenza di personale medico ed infermeristico dalla Regione Campania. Pagarne le conseguenze sono sempre i presidi ospedalieri delle aree interne come Agropoli. Vediamo i dettagli. Si registra ancora carenza di personale medico ed infermeristico in Regione Campania e a pagarne le conseguenze sono i presidi ospedalieri locali. I direttori sanitari, vista l'emergenza che stiamo vivendo, si stanno organizzando per riformulare i turni ospedalieri per sopperire alla mancanza di figure specializzate da inserire come organico nei reparti Covid dedicati. È il caso dell'ospedale civile di Agropoli dove i medici e infermieri in servizio presso il pronto soccorso dovranno affrontare turni straordinari nel reparto Covid-19, terapia intensiva e subintensiva. A denunciare questa situazione è il consigliere comunale Gisella Botticchio. Il personale del pronto soccorso di Agropoli da domani va in soccorso ai reparti di malattie infettive Covid-19, terapie intensive e subintensive. Questa è la grande organizzazione dell'apparato politico regionale che ci amministra. Chi tutela i poveri dipendenti di questa struttura? E sottolinea ancora la Botticchio. I medici come gli infermieri sono costretti a fare turnazioni e dividersi tra pronto soccorso e reparto Covid-19. Vergognatevi ancora una volta, scherzate con la salute della povera gente, ignara dei vostri giochetti di palazzo. Oggi il popolo deve aver paura ad avvicinarsi ad una struttura ospedaliera, conclude il consigliere di opposizione Gisella Botticchio. Restiamo in tema sanità, andiamo a Polla dove l'ospedale Luigi Curto è stato individuato come sede di laboratorio di biologia molecolare per il processamento dei tamponi. Ad annunciarlo il consigliere regionale Corrado Matera sulla sua pagina Facebook da dove fa sapere che nell'ambito delle azioni adottate per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica è stato deciso di installare nuove apparecchiature presso il presidio ospedaliero Pollese in grado di garantire con maggiore celerità la rifertazione dei tamponi per le aree del Vallo di Diano, Golfo di Policastro, Bussento e Mingardo grazie anche alla collaborazione instaurata con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Il macchinario assegnato, fa sapere il consigliere regionale, deriva dall'aggiudicazione del secondo lotto della gara espletata da Soresa e ai reggenti utilizzati saranno messi a disposizione dalla struttura commissariale per l'emergenza Covid-19 per il tramite di Invitalia. prosegue il piano per il potenziamento delle strutture sanitarie, riferisce invece il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca il laboratorio dell'ospedale di Polle, una zona particolarmente colpita nella prima fase della pandemia come il Vallo di Diano è un particolare segno di attenzione al territorio nell'ottica del potenziamento e del miglioramento dei servizi sanitari. Andiamo avanti, andiamo a Sassano dove da questa mattina è partita la consegna dei saturimetri nelle case in cui si sono registrati casi di positività da Covid-19 a darne notizia il vice sindaco Gianfranco Russo che sottolinea come si tratti di un'iniziativa adottata in collaborazione con il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Il saturimetro ricorda è uno strumento utile per valutare la saturazione di ossigeno dell'emoglobina presente nel sangue arterioso periferico e la misurazione della frequenza cardiaca di facile utilizzo e adatto per qualsiasi tipo di paziente compresi neonati, bambini ed anziani. La consegna dei saturimetri dichiara in conclusione il vice sindaco rientra nell'ambito di un più ampio programma varato dall'amministrazione Rubino che prevede tutta una serie di iniziative finalizzate a prevenire e contenere la diffusione del contagio da Covid-19 Parliamo ora di scuola, proteste ad Auletta da parte delle mamme, le scuole sono aperte ma i genitori non portano i bimbi a scuola e restano a casa Ascoltiamo le rassicurazioni del sindaco Vogliono la didattica a distanza le mamme di Auletta dal 25 novembre stando all'ordinanza regionale numero 92 i bambini dell'asilo e della prima elementare possono fare attività didattica in presenza a meno che il sindaco non fosse intervenuto per tempo con misure più restrittive In molti casi infatti i primi cittadini hanno optato per continuare con la cosiddetta DAD mentre in altri hanno ritenuto opportuno consentire le attività didattiche in presenza Il sindaco di Auletta Pietro Pessolano non si è opposto alla riapertura delle scuole e ora si ritrova le mamme sul piede di guerra Vorrebbero la sospensione come misura per salvaguardare i propri figli e intanto i bambini a scuola non ce li stanno portando In questi primi giorni in prima elementare neanche un bimbo presente su 15 all'asilo meno del 10%, 8 su 50 stanno frequentando Il braccio di ferro che si è innescato col sindaco dipende anche dal fatto che a Caggiano, l'istituto comprensivo e lo stesso, la DAD è stata prorogata Le mamme in protesta hanno trovato in questa divergenza l'appoggio del gruppo Auletta Nova Viviamo, dicono dall'opposizione, da giorni nella completa disinformazione da parte dell'amministrazione che non informa la popolazione sulla situazione dei contagi È normale che alla riapertura della scuola non si sia presentato nessun bimbo Una sconfitta per tutti, ma soprattutto per il sindaco, che crea solo confusione e disorientamento Come gruppo di opposizione stigmatizziamo questo incomprensibile comportamento e chiediamo al sindaco di tranquillizzare i genitori E le rassicurazioni arrivano Il sindaco Pietro Pessolano garantisce che sta gestendo personalmente la situazione Che se non comunica quotidianamente i dati è per non creare ansia E che non vi è al momento nessuna criticità tale da giustificare la chiusura delle scuole Tutti gli screening fatti finora sono risultati negativi L'ordinanza numero 92 è chiara, dice I sindaci possono adottare misure restrittive solo nel caso riscontrino rischi e non nel caso di Auletta È da apprezzare un sindaco che apre anziché chiudere I bambini devono andare a scuola per apprendere e socializzare Stanno perdendo mesi importanti, difficili da recuperare Posto che non ci sono criticità in paese, dice di non vuole essere responsabile Delle conseguenze negative sull'alfabetizzazione, lo sviluppo e sul benessere dei piccoli Che la chiusura delle aule comporta Le scuole dovrebbero essere le ultime istituzioni a essere chiuse Prova ne è che dappertutto conclude si continua a fare attività didattica in presenza Intanto a Polla l'amministrazione comunale aveva cercato di rassicurare i genitori Circa l'apertura della scuola in sicurezza Non ci sono motivi ostativi contro la decisione di far tornare i nostri bambini nelle aule Ma 160 mamme hanno raccolto firme e scritto una lettera perché il sindaco torni sui suoi passi La invitiamo a riflettere, si legge sulla lettera Che aprendo oggi le porte della scuola non si fa altro che dare una possibilità in più al contagio Una scuola chiusa non rappresenta la chiusura della cultura Il sapere va ben oltre la struttura scolastica La scuola momentaneamente chiusa non a causa di una situazione economica pericolosa Nessuno rischia di perdere il lavoro a differenza di altre situazioni Quale genitore si sentirebbe tranquillo, si legge ancora sulla lettera Se all'interno della struttura scolastica del proprio figlio ci fossero dei probabili contagiati Ovviamente crediamo nessuno Disagi anche a San Pietro Altanagro dove invece si è ritornati alla didattica a distanza A causa di un guasto all'impianto di riscaldamento Anche qui qualche protesta da parte di genitori per le aule fredde Intanto il sindaco Domenico Quaranta ha disposto alla chiusura del plesso scolastico Di via Grosoleia per risolvere il problema E le elezioni come è precisato nell'ordinanza continuano online E cambiamo ora argomento Sequestro bis al sito di compostaggio di Eboli E spuntano altri indagati nell'ambito dell'inchiesta Cariello Sigilli bis per l'impianto di compostaggio di Eboli E nuovi guai giudiziari per l'ex sindaco Massimo Cariello Relativamente alla gestione del sito Il PM Maria Carmela Polito della Procura della Repubblica di Salerno Infatti lo ha iscritto nel registro degli indagati Nell'ambito di una nuova inchiesta sulla gestione dei rifiuti Nella struttura ubicata nella zona industriale Finita al centro di velenose polemiche Anche con l'amministrazione comunale e comitati ambientalisti Della confinante città di Battipaglia E già sequestrata a fine gennaio 2020 Dai carabinieri del Noe Con annessa denuncia a carico proprio Dell'allora primo cittadino Eburino Avviso di garanzia anche per l'ex dirigente comunale Ora inquiescenza Rosario Lacorte E per gli imprenditori Gianni Gallozzi ed Angelo De Gregorio Rispettivamente procuratore speciale e delegato ambientale Della società Ladurner SRL di Bolzano Affidataria della gestione dei rifiuti nell'impianto Contestualmente sottoposto a nuovo sequestro da parte del Noe Contestati stavolta la violazione di diverse norme del codice ambientale Il getto e lo stoccaggio pericoloso di rifiuti Il GIP Francesco Guerra infatti ha accolto la richiesta del PM di prorogarne il sequestro Rigettando però la chiusura definitiva dell'impianto Nel corso delle attività ispettive condotte dai carabinieri Coadiuvati da personale dell'ARPAC di Salerno Tra giugno 2017 e ottobre 2019 Emerse che per le operazioni di recupero dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata L'impianto eburino riceveva quantitativi di rifiuti biodegradabili In quantità notevolmente superiori rispetto ai limiti imposti Producendo un esubero mensile di circa 500 tonnellate Tale esubero in aggiunta alle operazioni di deposito e triturazione Eseguite nel piazzale esterno dell'impianto Hanno causato le continue emissioni nauseabonde e moleste avvertite dalla popolazione Il sindaco di Orria Mauro Inverso è stato sospeso dall'incarico La decisione arriva direttamente dal prefetto di Salerno Francesco Russo Come atto conseguenziale dopo le misure cautelari scattate in seguito all'inchiesta Condotta dai carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania E coordinata dalla procura del tribunale locale Con al centro irregolarità negli appalti pubblici Sarà sostituito dal vice sindaco Anna Polito Lo stesso provvedimento era stato preso anche per il sindaco di Pedito Carlo Cirillo ma ritirato e quindi resta in carica Perché i fatti per cui è accusato risalgono a quando era assessore di una precedente amministrazione Andiamo a Sala Consilina dove si punta al potenziamento della raccolta differenziata Partendo dalla raccolta degli oli vegetali esausti L'amministrazione comunale ha infatti dato disposizione per la sostituzione dei contenimenti Per il conferimento degli oli provenienti dagli scarti alimentari Che renderanno più agevole il servizio Vediamo A Sala Consilina l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Cavallone Su iniziativa del consigliere delegato all'ambiente Nicola Colucci Sta provvedendo a modificare e migliorare il sistema di conferimento degli oli esausti Provenienti da scarti alimentari presso i contenitori distribuiti su tutto il territorio Da ieri la ditta Lemmi, incaricata della gestione del servizio della raccolta degli oli alimentari Sta provvedendo alla sostituzione dei vecchi contenitori presenti in diversi punti strategici del territorio comunale Con nuovi raccoglitori che offriranno anche un'ulteriore scelta sicuramente più ecologica I nuovi recipienti per il conferimento infatti al momento già posizionati in alcuni punti del centro di Sala Consilina Consentono agli utenti di conferire gli oli derivanti esclusivamente dagli scarti alimentari Quali possono essere gli oli utilizzati per la frittura, oli e grassi di cottura Oppure oli utilizzati per la conservazione di alimenti Come ad esempio gli oli in cui viene conservato tonno, funghi eccetera In due modalità diverse Si potrà decidere di conferire l'olio svuotando il contenitore di raccolta Che potrà poi essere riutilizzato Oppure conferire tutta la bottiglia o il recipiente contenente gli oli vegetali Vietato assolutamente il conferimento di oli derivanti da motore o altro Che non ha nulla a che fare con l'utilizzo alimentare Anche perché in tal caso potrebbe risultare compromesso l'intero ciclo di recupero Gli oli vegetali infatti possono essere riutilizzati Magari per la realizzazione di saponi, lubrificanti o altro Riducendo notevolmente il loro potere inquinante I nuovi contenitori quindi aiuteranno attraverso la duplice possibilità di scelta I cittadini a rendere più agevole il conferimento Che prima poteva avvenire esclusivamente attraverso lo svuotamento dei contenitori A Sala Consilina spiega il consigliere delegato all'ambiente Nicola Colucci Abbiamo iniziato con la sostituzione dei raccoglitori per gli oli alimentari esausti Attraverso la quale si vuole implementare e migliorare il servizio di raccolta e smaltimento Mediante il recupero degli stessi Destinandoli ad un nuovo utilizzo tramite la loro trasformazione Riciclando e riutilizzando correttamente gli oli vegetali esausti Sottolinea Colucci Si possono ottenere significativi vantaggi Sia dal punto di vista economico che energetico e ambientale Intanto a Teggiano a breve sarà attivo un servizio di videosorveglianza Sul territorio di ultima generazione Sono stati infatti affidati i lavori per la fornitura di sistemi di videosorveglianza in ambito comunale A breve il territorio comunale di Teggiano sarà dotato di telecamere di videosorveglianza Per garantire maggiore sicurezza ai cittadini Sono stati infatti affidati ad una ditta di San Pietro Altanagro I lavori per la fornitura di sistemi di videosorveglianza in ambito comunale Per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria Il cui progetto è stato approvato con delibera di giunta comunale nel novembre 2019 Per la realizzazione dell'impianto, si legge nella determina di affidamento dei lavori Il comune di Teggiano è stato individuato dalla giunta della regione Campania Quale beneficiario insieme ad altri enti del fondo per il sistema integrato della videosorveglianza stradale Con un contributo di 90.000 euro L'intervento, fanno sapere dal comune, riguarderà tutto il territorio di Teggiano che sarà dotato di un sistema di videosorveglianza di ultima generazione in grado di controllare i flussi in entrata e in uscita con analisi in tempo reale dei movimenti Particolare attenzione sarà riservata alle piazze, alle strade più frequentate e agli incroci più importanti Il nuovo sistema andrà ad integrare e completare quello di vigilanza smart già operante in particolare per il rilevamento di infrazioni alla circolazione stradale e per lo screening dei siti maggiormente soggetti all'abbandono di rifiuti mediante un piano predisposto dalla Polizia Municipale in collaborazione con le segnalazioni dei cittadini e i ragazzi del servizio civile In ultimo spiegano ancora dall'amministrazione comunale in fase di approvazione il nuovo regolamento che prevederà tra l'altro la possibilità per ogni cittadino di installare una propria telecamera e conferirla al comune per la vigilanza E ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità torneremo tra pochissimo, restate con noi Bentornati alla seconda parte del nostro Tg Andiamo a Padula dove il comune ha deciso di aderire alla rete città della cultura nata dopo l'incontro annuale Lubec di Lucca Lo scopo è promuovere la programmazione strategica della cultura Vediamo Promuovere la programmazione strategica della cultura come volano e strumento per lo sviluppo dei territori anche attraverso lo scambio di buone pratiche sul tema della valorizzazione dei beni culturali e del turismo ad esso collegato E' questo lo scopo della rete città della cultura a cui il comune di Padula ha deliberato di aderire La rete nasce nell'ambito della community di Lubec ricevendo le istanze presentate dalle città candidate a capitale italiana della cultura nel corso dell'incontro annuale per lo sviluppo della filiera beni culturali, tecnologie e turismo a cui il comune di Padula ha preso parte nello scorso mese di ottobre Aderendo alla rete gli enti si impegnano a diffonderne le iniziative e a contribuirne all'allargamento e a prendere parte alle iniziative di interesse generale che saranno concordate Risulta strategica, si legge nella delibera del comune di Padula la necessità di una piattaforma di confronto e scambio che diffonda linee guida e buone pratiche utili per mettere in atto processi di gestione integrata ed innovativa della cultura Dunque la rete nasce in risposta a questa necessità e si pone tra i vari obiettivi quello di promuovere la programmazione culturale quale strumento di governo e di valorizzare in modo integrato il patrimonio storico-culturale delle città aderenti consentendone la messa a sistema La Promo-Opa Fondazioni ha quindi definito i termini di adesione alla rete attraverso una carta di condivisione dei principi a cui il comune di Padula ha deliberato di aderire E ora il consueto appuntamento con la rubrica L'agenda politica di Uno TV Mario Cirillo nella puntata di oggi parlerà di Movimento 5 Stelle tra accordi con il PD in Puglia e l'indecisione che invece si registra in Campania Intanto azione entra in azione Il partito di Calenda ha infatti scelto il nome del coordinatore regionale puntando su un salernitano Ora ci si chiede cosa farà azione alle prossime elezioni amministrative Ascoltiamo Mario Cirillo Mario Cirillo Nuova puntata dell'agenda politica di Uno TV Mario, parliamo già un po' di tempo fa di quello che poteva accadere in Consiglio regionale Dopo le elezioni, Valeria Ciorambino Insomma, anche quello che è accaduto Per quanto ci sia stata una lotta intensa contro il presidente De Luca poi sembrava rientrato poi sembrava ripartito Insomma, secondo te cosa accade? Anche alla luce di quello che è accaduto poi in Consiglio regionale in Puglia In Puglia, per chi non lo sapesse il Movimento 5 Stelle, quattro consiglieri su cinque sono entrati in maggioranza La Puglia ha una legge elettorale un po' particolare ovvero i membri della Giunta devono essere all'80% scelti all'interno del Consiglio quindi su questo ci sono dei vincoli sta di fatto che sotto il profilo politico il fatto che quattro consiglieri del Movimento 5 Stelle l'unica che non ha accettato questa proposta è stata la candidata presidente della Riccia che ha detto no ho fatto una campagna elettorale chiedendo il voto per il Movimento 5 Stelle completamente alternativo affitto e a Emiliano oggi resto all'opposizione gli altri quattro invece l'hanno mollata qualcuno ha detto beh, per cose anche meno gravi abbiamo fatto l'espulsione dal Movimento la faremo anche adesso? vedremo perché questo è un tema politico non è soltanto il discorso della Puglia è il discorso di come il Movimento 5 Stelle sta cambiando è già cambiato cambierà ancora e soprattutto come intende affrontare le prossime elezioni amministrative domani, sì domani è sabato il Movimento 5 Stelle presenta liste candidati a Salerno lo farà in maniera alternativa rispetto a Napoli rispetto dunque a De Luca sì o no? per il momento lo fa poi insomma nel corso del tempo vedremo e così a Napoli così a Caserta e così anche a Benevento in Campania in Regione Campania diciamo che c'è stato un primo si sono un po' annusati De Luca e il Movimento 5 Stelle perché al di là di tutto mi si può dire sì, è un ruolo istituzionale ma la vicepresidenza del Consiglio regionale viene data all'opposizione per consuetudine le opposizioni sono due cioè c'è l'opposizione del Movimento 5 Stelle e quella del centro-destra ora, è vero che il centro-destra ha avuto altre posizioni ha avuto un questore ha avuto un segretario di presidenza ma il ruolo del vicepresidente è un ruolo abbastanza importante perché il centro-sinistra ha scelto di sostenere la candidatura della Cerambino? questa è la domanda è una scelta politica legittima però è chiaro che avrebbe potuto scegliere un vicepresidente ecco, di forza Italia ha preferito farlo con il Movimento 5 Stelle lo ha fatto in un momento in cui i rapporti tra regione e governo sembravano andare bene poi è successo quello che è successo con De Luca a proposito oggi è venerdì l'appuntamento quindi non dimentichiamo l'appuntamento con la telenovela in diretta dal Minareto vediamo che cosa verrà annunciato e poi questo rapporto si è raffreddato intanto non ne dice il Consiglio regionale ci sono le presidenze di commissione ne abbiamo parlato spesso anche qui i presidenti di commissione spettano l'opposizione però è chiaro che il voto della maggioranza può essere determinante per l'uno o per l'altro io credo che almeno per il momento i rapporti rimarranno freddi probabilmente in primavera con i primi tepori anche elettorali diventeranno un po' più come dire cordiali si scioglierà il ghiaccio che al momento si è creato tra il Movimento 5 Stelle e De Luca in Consiglio regionale però abbiamo anche altre notizie perché poi sì noi parliamo sempre di PD, 5 Stelle però ci sono i partiti anche diciamo non più piccoli meno grandi mettiamola così qui si stanno organizzando il caso di azione di Carlo Calenda ricordiamo che Calenda si candida a Roma come sindaco insomma la candidatura a Roma come sindaco vale quasi quanto le politiche un comune importante il comune più importante è la capitale ebbene azione ha indicato in Antonio D'Alessio consigliere comunale di Salerno il coordinatore regionale quindi vuol dire che Antonio D'Alessio andrà a trattare sul tavolo i famosi tavoli di centro-sinistra a Benemento a Casenza a Tavellino e a Salerno azione non piace a mia figlia che ha chiuso la porta perché evidentemente ha come dire inclinazioni politiche diverse vabbè non è detto quindi secondo te potrebbe quindi anche azione partecipare a queste prossime elezioni comunali? no sicuramente partecipa il problema è capire dove mette la poltrona dove mette la sedia cioè di qua o di là quindi sarà presente insomma anche Napoli e Salerno che ricordiamo assolutamente e poi capisci bene che la città del coordinatore regionale non può non presentare una lista veramente è una questione anche di prestigio di credibilità al momento i tre consiglieri comunali di azione sono all'opposizione però in politica insomma tutto può cambiare a cascata da Roma se è Roma riescono a trovare un accordo sul nome di Calenda è chiaro che anche a Salerno azione non può che andare con De Luca con una propria lista e qui si apre un altro ragionamento è interessante perché vedi la gestione è un po' come è accaduto con le regionali con le regionali che cosa è accaduto? a un certo punto da sei liste De Luca se ne è trovato 15 quando tu hai 15 liste non riesci a controllare tra virgolette chi saranno gli eletti e quello che potrebbe accadere anche a Salerno perché solitamente loro hanno insomma un sistema di gestione molto più efficace nei confronti anche dei potenziali candidati ed eletti insomma domani è sabato non si va a scuola no non è vero perché e chiudiamo con questa in modo tale che facciamo anche un po' di chiarezza ma non perché la dobbiamo fare noi le regioni hanno chiesto al governo di non tornare a scuola almeno per quanto riguarda le medie e soprattutto le superiori e di immaginare un rientro in presenza in presenza a partire dal 9 di gennaio cioè quindi dopo le feste di Natale il governo parla del 9 di dicembre come possibile rientro capite bene dal 9 al 20 sono 10 giorni effettivi di scuola sono 7 giorni mi serve insomma un modo per dire beh torniamo forse torniamo accontentiamo un po' anche chi sostiene la riapertura delle scuole non sono pochi con questo rinvio però realisticamente e auguriamoci che accada si torna in presenza dopo le feste di Natale bene staremo a vedere su tutto insomma e poi dobbiamo dire le feste di Natale quante persone il capitone gli stufoli le pastille no le pastille sono a passo le pastille sono a passo il prossimo DPCM ci dirà pure quanti bicchieri di vino bere la notte della vigilia di Natale noi aspettiamo disposizioni assolutamente grazie grazie a voi ciao buona giornata e con la rubrica l'agenda politica di uno tv chiudiamo il nostro tg io vi ringrazio per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di serata l'agenda politica